Siamo in compagnia di Johnny, siamo nel suo negozio, lo Stragatto Matto, in pieno centro a Padova. Parliamo di must del momento per quanto riguarda gli amici a quattro zampe, cappottini, collari, guinzagli personalizzati. Qual è il must? Insomma, con queste temperature abbastanza fredde, anche i nostri cagnolini hanno freddo e per cui sarebbe l'ideale coprirli. I vestitini come quelli che vedete dietro di me sono molto utili per evitare di stare molto tempo dal veterinario. Cose anche che tornano molto utili d'inverno con il brutto tempo e con le temperature sono borse per portarli a passeggio, per andare al ristorante e queste cosine qua. Poi ci sono le cose che, tra virgolette, soddisfano anche i nostri occhi, per cui un collarino con gli svaroschi o con i fiocchetti fanno sì che facciamo una coccola al nostro cane, se non fare una coccola a noi stessi nel vederlo. Quindi è un po' un mix tra esigenze per il freddo e anche vanità del padrone? Sì, è un po' come quando andiamo a comprarci da vestire per noi. Si può spendere 20-30 euro e tenersi caldi o spenderne 100 e vedersi anche belli. È un po' la stessa cosa per i nostri piccoli animali. Ti chiedo, ma sono effettivamente comodi per gli animali questi vestitini o no? Perché a volte li vediamo camminare un po' impacciati. Beh, dipende anche lì da che dita si affronta. Ci sono dite che lavorano molto bene, per cui fanno cose veramente molto comode, confortevoli, calde e ovviamente si spende qualcosina di più perché dietro a queste ditte ci sono degli studi, tra virgolette anche dei sarti che lavorano questi capottini e dite invece che magari sono più commerciali e non lavorano bene uguali.